Buongiorno, sono il generale di divisione Paolo Serra, sono il comandante della missione Unifili in Libano, una missione ONU che ha preso il suo avvio nel 1978 e continua ancora oggi. Lo scopo della missione secondo la risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza dell'ONU è quello di monitorare la cessazione dell'ostilità lungo la Blue Line, sostenere l'attività delle forze armate libanesi e del governo libanese nel sud del Libano, assicurare che la zona di operazione dal Norlitani alla Blue Line sia priva di attività ostili e sostenere la popolazione locale. Siamo nel comando delle forze di Unifil, sulle pareti abbiamo le immagini dei comandanti che dal 1978 hanno guidato questa missione. Parlando di Blue Line, vediamo sulla carta ed aiutiamoci un momento, al nord il fiume Litani, al sud la linea blu, la linea blu è una linea di riferimento lunga circa 120 km che per essere visualizzata sul terreno necessita di circa 500 pilastri. Questi pilastri, giacendo su una linea che corrisponde a quella che era il confine una volta, è una zona completamente minata, quindi necessitano di essere concordati sulla carta, sminati da entrambi le parti, una volta che sono stati ripuliti possiamo erigere i nostri pilastri. Ci servono 500 pilastri, 250 posizioni sono state concordate, 200 sono state minate, 150 pilastri sono già stati eretti. Le attività operative di Unifil, di controllo, monitoraggio e sostegno, sono portate avanti grazie alle 38 nazioni che contribuiscono a fornire le forze e all'attività svolta sinergicamente dai civili e dai militari. Sono presenti 12 mila militari di 38 nazioni, 8 navi, 7 elicotteri, 1000 civili delle Nazioni Uniti. Parlando di misure di coordinamento non dobbiamo dimenticare il tripartito, un unico forum al quale mensilmente partecipano rappresentanti militari di Libano e di Israele che con l'ausilio di Unifil definiscono le misure di sicurezza.